Il novembre del 1970 è un mese piuttosto particolare per Milano, si sono riuniti qui in città tutti gli artisti del movimento Nouveau Realisme, nato proprio a Milano per quanto francese nel 1960 e la fine, l'happening finale, Pierre Stany, che li capitana, guida alcuni di questi artisti in Piazza Duomo, tra loro c'è Christot, oggi famosissimo, all'epoca giovane artista irriverente che impacchetta proprio il monumento di Vittorio Emanuele, una sorta di grande protesta non popolare ma politica fa sì che debbano in un qualche modo poi spacchettarlo quasi immediatamente. La mostra propone proprio i progetti che gli Agrati comprano in presa diretta in quel momento, conoscendo l'artista, diventandone mecenati e addirittura partecipando alle avventure straordinarie di colui che diventerà forse uno degli artisti della land art più famosi al mondo, oggi noto al grandissimo pubblico. Proprio per gli Agrati Christot prepara dei progetti per il loro giardino che sono qui presenti in mostra e per il loro rosetto, una sorta di tende che con la neve d'estate, in primavera, diventa una sorta di astronave, una sorta di momento cruciale dell'arte contemporanea in un giardino borghese che invece così diventa un momento di vita contemporanea. Quando Christot spacchetta costretto il monumento a Vittorio Emanuele, coprirà quindi in una sorta di grande happening il monumento a Leonardo da Vinci, proprio davanti qui alle Gallerie d'Italia. Milano, gli Agrati, l'arte contemporanea e le Gallerie d'Italia, dove tutto si tiene e tutto parla di arte contemporanea nella città e nel mondo.